Oggi parliamo di malattie dell'intestino, in particolare del colon. Il colon è l'intestino grasso, come ho disegnato qui, e tutta questa parte qui dell'intestino. Qui è l'intestino tenue. La parte di cui parliamo adesso è il colon destro, destro dal punto di vista del paziente. Le malattie sono il cancro oppure polipi, cioè tumori benigni, che però non si possono rimuovere con endoscopia. Per esempio, se qui c'è uno di questi tumori, li dobbiamo togliere. Adesso è importante che non togliamo solo una piccola parte qui. Questa è come una fetta di pane con la muffa. Qui non tagliamo solo questa parte con la muffa, ma buttiamo via tutta la fetta di pane. E questa è una cosa molto importante perché anche questi tumori non crescono molto tondi perché hanno dei fili che vanno alcuni centimetri dentro la parete del colon. E quindi questi bisogna togliere. Un'altra cosa sono questi vasi, cioè è tessuto vivo e questo ha delle arterie che portano ossigeno e altre cose di cui ha bisogno. E quindi a lungo queste arterie, se comincia a fare metastasi, va lungo queste arterie. Questi sono i linfonodi che crescono in questa direzione. Quindi bisogna tagliare questi vasi proprio qui centrale e non solo qui vicino al colon. Capito? Vuol dire che quando tagliamo questi vasi, vuol dire che bisogna tagliare un po' di più del colon perché altrimenti non sopravvive. Quindi di solito il limite è qui. Dobbiamo tagliare tutta questa parte destra. E alla fine facciamo la riunione dell'intestino tenue e del colon. Questo intervento si può fare di solito con la tecnica minima invasiva. Vuol dire con tagli molto piccoli. Ci vuole solo un taglio un po' più grande, tipo 5 centimetri, per tirare fuori questo pezzo di intestino. L'obiettivo è la guarigione completa che è possibile nella maggior parte dei casi. Una stomia, cioè un'uscita artificiale dell'intestino non è mai necessario.